Daniele Guerrieri, capogruppo della maggioranza nel parlamentino san giustinese, si avvicina il momento della Tasi, consigliere. Vogliamo provare più che altro a fare un po' di chiarezza? Sì, noi in data 31 luglio abbiamo approvato il bilancio di previsione e ovviamente lì abbiamo determinato le aliquote Tasi. In particolar modo parliamo delle abitazioni principali in questo caso perché mentre per l'Imu nelle abitazioni principali non c'è l'Imu, nella Tasi saranno interessati tutti i cittadini, residenti e proprietari di prime casse e non solo però. Nella prima casa abbiamo messo un'aliquota del 3-3 perché ci ha permesso in questo modo qui di mettere delle detrazioni, varie detrazioni. In primis la detrazione di 100 euro per quanto riguarda il figlio a carico entro i 26 anni. Poi ci sono anche altri tipi di detrazioni, minori però, che ci sono per i residenti all'estero, per i figli disabili, senza limite di età, eccetera, eccetera. Questa è un'operazione fatta per permettere appunto un gettito fiscale che è venuto a mancare da parte dei trasferimenti dello Stato centrale. Vorrei fare solo un inciso, quella che viene condannato alla Tasi è essere l'Imu, la sostituzione dell'Imu. Non è proprio così, però a livello di gettito è così, in effetti, perché se nel 2012 i comuni hanno suffruito del gettito Imu, dovuto alla riforma Monti, nel 2013 questo gettito è stato suffrogato da parte dello Stato centrale, con l'abolizione dell'Imu prima casa, tutto il governo Letta, Berlusconi, eccetera, eccetera. Nel 2014 questo gettito qui non c'è più, proprio perché è stato trasferito tramite la Tasi. Quindi questo per dire che cosa? Per dire che nel complesso noi siamo consapevoli della pressione fiscale, non solo italiana, ma anche locale, che è troppo elevata. Ma dobbiamo anche far fronte a, diciamo, un equilibrio di bilancio, che siamo dovuti stati chiamati in un mese a dover rispettare dall'insediamento e quindi per il futuro ci siamo presi anche altri impegni. In particolar modo due, che sono venute anche dalle opposizioni, anzi tre, sono uno sulle attività produttive, in cui ovviamente le aliquote Imu più Tasi sono troppo elevate, due per i cittadini ultra 65 anni o ultra 70 anni, tre sul discorso di scaionare per dire l'aliquota IRPEF, un'altra ovviamente tassazione, in base al reddito. Questo è venuto dal Movimento 5 Stelle, la proposta. E la Commissione di Bilancio reinizierà il lavoro proprio su questo, per il futuro. Consigliere, quindi mi sembra di capire che dalla 2015 cittadini ed imprese inizieranno a vedersi diminuite le tasse, le imposte. L'obiettivo è questo. L'obiettivo è lavorare a 360 gradi sul bilancio, con la consapevolezza che da limare c'è rimasto poco, nel senso come si faceva classicamente, tant'è vero che ci siamo dati appunto l'obiettivo di andare a rivisitare il bilancio dalle fondamenta. Quindi questo significa andare a prendere capitolo per capitolo le voci di spesa e significa capire anche, in base alla strategia futura e agli obiettivi futuri, capire dove investire e dove togliere. Consigliere, inutile negarlo, lei ha tanta esperienza politica e amministrativa. Come me saprà che il bilancio della Comune di San Giustino è un bilancio sano e non ci sono sprechi. Quindi, come lei dice, da tagliare c'è poco. Che cosa potremo allora aspettarci? Quali eventuali tagli, se ci saranno, oppure dove è possibile migliorare? Allora, la domanda mi dà modo di parlare di altre due questioni. Allora, tagli io non ne parlo, perché il Comune di San Giustino, che se ne dica, insomma che è, però è stato, l'ha detto lei stesso, è stato amministrato sotto l'aspetto economico molto bene, perché il Comune di San Giustino è un comune che paga entro i 60 giorni dalla data della fattura, cose che i comuni sono abituati dopo un anno, il bilancio è un bilancio sano, in equilibrio e quant'altro. Quindi io di taglio non parlo, perché significherebbe tagliare dei servizi. Noi vogliamo parlare di mantenere i stessi servizi, però su basi diverse. Porto due esempi concreti, servizi asilinido e servizi anche contributi per le persone indigenti. Ci sono in campo, per dire, dentro la Commissione dei Servizi Sociali, di cui non faccio parte, ma che conosco, perché essendo il capogruppo conosco un po' a 360 gradi la macchina amministrativa, ci sono due attività che sono in controtendenza rispetto a prima. Uno, si sta parlando in Commissione dei Servizi Sociali di una contribuzione relativa a un servizio, diciamo, di cittadinanza. Non più una contribuzione a gettito, no? Ovviamente sto parlando di persone che sono in grado di lavorare, non di chi non è in grado di lavorare. Ma chi è in grado di lavorare e chi si trova in difficoltà potrebbe in futuro prestare un'opera di servizio civico, chiamiamolo così, per il Comune di San Giustino e in contropartita avere dei contributi che gli permettono comunque di affrontare la crisi che sta vivendo in questo momento. Mentre invece, per quanto riguarda il secondo punto, è quello per dire degli asilinido, si sta ragionando su che cosa? Essendo un servizio ben strutturato a San Giustino, con delle convenzioni e quant'altro, abbiamo anche un asilinido pubblico che ovviamente ha delle dinamiche interne e comunque di gestione da dover affrontare nei prossimi due o tre anni. Su questo stiamo ragionando perché c'è una seria possibilità comunque di affrontarlo in maniera diversa rispetto al passato, anche traendo delle economicità, che non significa non fare più il servizio, ma farlo in maniera diversa. Quindi risparmi che potrebbero apportare a un miglioramento e un abbassamento delle aliquote. Torniamo a parlare di tasse, torniamo a parlare di imposte sul territorio. I cittadini ci chiedono di chiedervi, a fronte di queste tasse, quali servizi noi riusciremo ad avere. Allora, noi veniamo da un'assemblea per dire su venerdì scorso nella sala del CVA di San Giustino, nella sala pubblica del CVA di San Giustino, nella quale abbiamo affrontato per dire il discorso della variante del capoluogo. È un problema annoso, io ho 35 anni, credo che non da quando sono nato, ma quasi ne sento parlare, ne sento, e lì abbiamo affrontato il tema appunto del come andare alla risoluzione, anche se parziale, però di quello è il nostro problema. Quindi un progetto complessivo che prevede il completamento, metto tra virgolette completamento, comunque della viabilità del capoluogo. Questo per dire che cosa? Per dire che ovviamente in capo al discorso del gettito fiscale che ci deriva ovviamente dalla Tasi, al di là del ragionamento fatto prima sulla mancanza di gettito da parte dell'amministrazione centrale Roma, del governo centrale, al di là di quello i servizi ovviamente che il Comune eroga verso il cittadino sono molteplici. Poi dopo ognuno li vede magari quando ne usufruisce. Io in primis e come tutti noi. Nel futuro ovviamente ci sono delle priorità. Ho già detto quello per quanto riguarda la viabilità del capoluogo. Vorrei ricordare almeno un'altra priorità che è quella della viabilità di Selci che da dover affrontare per risolvere comunque questo problema o comunque questa cosa che si è venuta a creare. Altro discorso ancora è la sistemazione o comunque la risistemazione di piazza del municipio di San Giustino. Preannuncio già che ci sarà un'altra assemblea partecipativa giovedì prossimo sempre nella sala del CUA nel quale parleremo appunto di arredo urbano della piazza del capoluogo. Quindi in sostanza i primi veri interventi che vedremo nel prossimo anno saranno quelli relativi alla viabilità. Una piccola chiosa su Selci è vero che si sta parlando di eventualmente riportare se ci saranno le condizioni Viale Francesco Nardi a doppio senso di marcia. A tal proposito chiariamo prima dovranno essere trovate le aree di parcheggio consiglieri. Sì, qui c'è un bel dibattito interno alla maggioranza e non solo, in mezzo ai cittadini basta insomma uscire e lo si comprende benissimo. Personalmente penso che ci siano diverse soluzioni da poter praticare. Adesso al di là, in doppio senso no, del Viale Francesco Nardi e lì la questione è molto delicata, però al di là di quello il problema vero secondo me infatti e l'hai centrato benissimo è quello dei parcheggi e quindi io per dire la mia personale opinione che è quella che a Selci è un bellissimo territorio con una rete stradale che non c'è uguali nelle altre frazioni, soprattutto alternativa a Viale Francesco Nardi. Secondo me va regolamentata lì la viabilità quindi con un piano complesso, comunque un piano del traffico ben definito che permetta anche magari sensi unici nelle traverse e che permettano quindi anche di usufruire delle traverse anche come parcheggi ben delimitati. Un'ultima domanda di estringente attualità riguarda sempre la frazione di Selci, c'è stata questa polemica sulla cittadella dello sport, chiaramente Selci per l'amministrazione non è una frazione dimenticata ma a pari di livello del capoluogo e delle altre frazioni. Ma io penso che Selci non possa essere dimenticata prima di tutto, vorrei sfatare però un tabù, questa è un'occasione per poterlo fare, cittadella dello sport sì, cittadella dello sport no, l'amministrazione si sta muovendo da come so io insomma in primis il sindaco e la giunta si stanno muovendo per risolvere degli annussi problemi di Selci, parlo dei medici, degli studi medici, parlo dei parcheggi, parlo delle aree diciamo dismesse anche no, in proprietà comunale non solo, parlo di queste cose qua, si sta muovendo proprio per questo e mi permetti una battuta delle due una, nel senso che la cittadella dello sport è un progetto che deriva da molto lontano, anche se in realtà vorrei capire bene l'usufruibilità poi se ci fossero cose del genere e la fattibilità di quella operazione, ma io la metto sotto il piano della vivibilità del centro storico di Selci, da una parte si chiede di portare fuori da Selci delle attività per fare una cittadella dello sport, quindi no, servizi di aggregazione, ricreativi e quant'altro, dall'altra però si chiede anche che Selci viva il centro storico. Non credo che portare fuori le attività ricreative dal centro storico di Selci permetta a Selci di vivere il proprio centro storico più di quello che c'è adesso, perché ovviamente se tu porti le attività ricreative dove girano i giovani, dove gira la gente e dove si ritrova la gente fuori dal centro storico, ovviamente il centro storico non viene vissuto.